stop adesso facciamo alcune prove di intelligenza per quanto riguarda questa razza stop like, non di muovere così vi rendete conto l'intelligenza di questa razza va oltre ai miei colleghi di lavoro non faccio nome per non creare problemi al nostro reparto autista non ti muovere ti do io il via ok? come potete vedere non si muove per nulla al mio comando eseguirai gli ordini prendi la palla forza laica qua brava brava dai la pallina ho capito che è tua dai la pallina vieni qua siediti qua sopra stop stop fermati fermati ok vai lì sopra lì sopra forza forza vieni siediti forza cuccia stop fermati adesso nascondiamo la pallina e vediamo se la riesce a trovare la pallina mettiamo la pallina qua dietro questo è il posto più semplice per farvi vedere poi la possiamo nascondere anche a capodichino ci verrà senz'altro come potete vedere non si muove laica trovo la pallina forza piano la palla laica laica la palla dove sta forza trova brava laica dai qua laica brava laica brava vieni qua e dai vai a essere là forza vai a sederti là laica qua forza stop non ti muovere ok stop non ti muovere vai laica vai laica laica vai a sederti là dai laica stop ehi basta cuccia terra cuccia terra e non ti muovere ehi cuccia terra vieni qua forza laica andiamo laica laica seduta qua forza laica seduta dai stop cuccia terra adesso adesso nascondiamo la pallina in un posto un po' più particolare va ma ce la nascondiamo per la sua cuccia non ti muovere non ti muovere che c'è da guardare che c'è laica trova la pallina forza vai forza brava laica brava laica qua stop stop dai la pallina e fermati e fermati laica cuccia terra cuccia terra cuccia brava adesso la nascondiamo in un posto ancora più complicato la posso metterla anche giù così vi rendete conto laica vieni qua forza adesso facciamo una prova ancora più complicata laica vieni qua cuccia brava no no qua sopra scendi cuccia forza stop cuccia terra non ti muovere non ti muovere fermati non ti muovere adesso proprio per farvi capire l'intelligenza dove arriva ce la metto qui dietro ok e vi faccio vedere come potete vedere lei sta sempre ferma lì adesso questa diciamo è una prova un po' più ma forse un po' complicata ma non per lei laica trova la pallina forza dove sta è incredibile cavolo non ci ha messo nulla brava laica brava laica vieni qua ok vieni forza laica qua dai qua sopra dai cuccia terra cuccia non ti muovere non ti muovere laica stop facciamo un'ultima prova chi c'è eh la guarda la guarda l'osserva come potete vedere laica non ti muovere stop prendi la palla la guarda non ti muovere capricola non ti muovere che c'è